bene allora io sono sceso dalla torre mi ha dato la missione completata ho fatto il pieno alla moto e ora prosciuga e tradisci i soldati ma poco importa perché ormai siamo tutti senza tetto immersi nella natura come i nostri antenati ci credevano incapaci di vivere senza servizi e sussidi ma stiamo dimostrando che si sbagliavano abbiamo bisogno solo di volontà determinazione e fiducia reciproca qualità che i federali hanno sempre cercato di soffocare volete anche voi la nostra fiducia dovrete guadagnarvela qui marca copland di radio free oregon non credete alle menzogne sì in pratica adesso fantastico radio free oregon trasmette di nuovo io cosa ho fatto e infatti sì questo è stato c'è stato un dialogo facoltativo molto breve voi purtroppo non l'avete visto perché non me lo aspettavo che liberando il aspetta la moto la lascio qua liberando il campo il campo la torre insomma adesso ci abbiamo radio free oregon vabbè che trasmette di nuovo vabbè ok vabbè così allora aspetta un attimo però perché disinfestazione del crazy willy quindi presumo presumo è che per disinfestare un'area ci vogliono le moto teoria qua il silenziatore sì ma non è rimasto molto il silenziatore allora i nidi i nidi qui ci sono un po' tanti mi sa vabbè senti io vado una taglia ok ok aspetta non m'ha visto anche se adesso probabilmente mi vedrà ma no forse no qui sì qua ce l'avamo già stati era non era la zona della nero questa anche se dice boh crazy will non so ma infatti infatti cosa sto facendo fidelà eh vabbè ragazzi non sono molto in forma eh non abbiate pazienza infatti 500 metri fa vedere la mappa aspetta madonna ok e infatti ah perché ci fa andare di qua infatti ah ci fa passare qua dentro mi sa e allora andiamo in velocità allora un attimo qua la benzina comunque va via in un attimo eh non sto attento passo in mezzo esatto sarà sarà libero questo posto poi forse tirata strategica a volte tirata può essere la migliore strategia se è in vigore ancora disponibile premi l3 per scattare beh se sono una marea di zombie direi di sì qua forse ce l'avamo già passati quando abbiamo fatto sì la la storia eh rimangono i corpi però non spariscono non spariscono questi l'avamo già ammazzati ah questo carina come cosa aiuto aiuto ok io sto dando un po' gas se è un po' no per risparmiare benzina giusto per ok ecco qua il cartello sì 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 ok oh siamo tornati parcheggerei qua esatto allora come si distruggeranno i nidi od od cane e mica l'ho sentito c'è un lupo cane eh vabbè aia ok mi son curato aspetta un attimo mamma mia maledetto lupo oh l'ho preso al volo ah ok fine ammazzato entrambi non so come forza allora sì e uno mentre prima di partire con questo episodio un lupo questa posso venderla mi ha già attaccato guarda 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 mastardi no aspetta mi curo così al volo morto morto sì mamma mia ok sì sì raccogliamo tutto che poi vendiamo allora un attimo però si è fatta notte intanto la moto l'ho lasciata qua e va bene forse la strada dall'altra parte è meglio colpi beh colpi un po' ne abbiamo anche se il silenziatore tra un po' ci lascia ok forse è meglio ah balestra non abbiamo abbiamo cinque darti adesso vediamo qua c'erano i bambini secondo me è lo stesso che nei tunnel anche nei tunnel mi sa che erano nidi quelli forse l'aveva detto il nostro amico non mi sento tranquillo però cioè aspetta ok facciamolo fuori ok ah lo segna qua o se è la casa questa casetta qui eh devo lanciare oddio oddio una moto of leap ci proviamo adesso appena ok ci proviamo durante ah durante il giorno sono nido distrutto ok perfetto si con le moto non avevo pensato oddio aspetta però ma lontano un po' perché qua possiamo salire si ah perfetto quindi uno è quello intanto l'importante è aver distrutto i nidi poi cioè ripulire la zona con le poche risorse che abbiamo è un po' difficile però forse possiamo entrarci adesso nella casa adesso che ha smesso di bruciare vediamo madonna letami vedere si possiamo entrarci ma non c'è niente allora qua ce n'è un altro ce li ho alle spalle beh la minimappa devo dire che comunque aiuta aiuta che ti indica la minaccia dove può provenire qua forse abbiamo delle munizioni vediamo si si ok vai 5 più 3 ottimo poi un altro nido ah è qua occio va va che mi ha visto usiamo la mazza che è andato eh l'arma corpo a corpo devo dire è molto importante senza senza allora questo qua è un nido dov'è qua sono quattro ci servirebbe mi allontano no no ma ho sbagliato ho sbagliato ma no ho sbagliato eh ha fatto l'esplosione ho usato la bomba aspetta eh adesso li ho risvegliati tutti mamma mia sono troppi aspetta aspetta maledetto menu ah se vado là in alto vediamo 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 un po' mi seguono secondo e adesso si una bombetta si che ci sta vai olè poi dammi la molotov che è passando perché ho idea che qua continuano a sbucare non abbiamo vigore opla un attimo un attimo non abbiamo vigore saliamo sulla moto presto vai 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 allontaniamoci un attimo maledizione ok vediamo fermi tutti i spari i boat dell'esplosione tirano spesso ospiti indesiderati eh grazie si ma i suggerimenti appaiono troppo veloci uno non fa in tempo a leggere allora boh eh no però troppo vicino allora qua dovrebbe averne attirato uno forse lo sento eccolo merda merdaccia sarola no ma visto oh io ci provo tutte le volte ma aspetta a uno ne abbiamo ucciso che che sfiga senti un po eh adesso sono troppi però niente niente mi devo allontanare ancora caracca maledetto a me non ci ha fatto caso quella morte qua aia ok mi ho scoperto un campo così mi lasciate un attimo stare grazie che ucciso che ucciso mi investo vabbè zina ne abbiamo ancora aspetta aspetta posso stare qui posso sostare una no non mi fanno non demordono sembra che c'è silenzio sembra io mi allontano un po' a piedi aspetta ce l'ho dietro 10% ok forse forse ci siamo eh forse ok allora dicevamo là c'è un'altra auto della polizia quasi quasi darei un'occhiata eh però se quelli non vengono magari quella lì se riusciamo a prenderla di spalle che cavolo sta facendo ok ok ah e le auto mi sa che le come i nemici rimangono qua siamo nascosti eh ok come i nemici rimangono a terra morti anche comunque le auto che vediamo gli oggetti che prendiamo che apriamo ecco rimangono aperte cioè non è che andando via e tornando troviamo altre risorse no no quindi vabbè ci saranno un sacco di risorse sono sicuro però comunque una volta aperta un'auto basta quella è l'antifurto mi sa eh so lampeggio comunque noi eravamo qua per i nidi adesso se noi abbiamo due moloto possiamo farne un'altra e la facciamo così siamo a posto guarda come siamo messi abbiamo cinque bende eh quindi non ne abbiamo un po' di cure qua abbiamo dei sassi qua abbiamo il silenziatore che ormai non c'è più un po' di colpi pistola e cinque dardi questo viene qua ah no si si arrampicano anche cioè sono zombie proprio aggressivi aggressivi questi allora questo qua è un nido dammi la oggetti da lancio ok dammi la bottiglia vaffanculo bruciate mi allontano piano oh qua è allora nido distrutto perfetto forse devo invece allontanarmi velocemente vediamoci li ho ne ho due alle calcagna ne ho due alle calcagna tiriamoli qua sembra che non c'è nessuno sembra ne ho tre alle calcagna guardali guardali aspetta è per forza non li ho presi scusa dai corri torca vacca aia mi ha ucciso non so se alla fine della notte forse è il momento migliore però forse ci sono di più in giro non saprei vediamo sono riuscito ad ucciderne un po' venendo qua però devo ridare fuoco ottimo devo ridare fuoco a questo perché non me l'ha salvato stavolta proviamo a dare fuoco vai corro 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 così vediamo ok sì forse è la strategia giusta cioè dargli fuoco scappare e nascondersi esatto stato stupido io ma non oh qua c'è qualcosa sempre utile che pianta è sing singonio prendiamo perfetto dunque ne mancano due ne mancano due forse uno è questo penso di sì 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 dove ci sono diciamo i rami un po' messi un po' però c'è cosa c'è qua in alto ah uno zombie allora gli do faccio così così mi nascondo qua ah va che scappano ok in teoria sono nascosto eh ah ecco ok ma che stanno uscendo dovrebbero essere bruciati vivi però vabbè cazzar cazzar ok me l'ha dato dopo il comando me lo è me l'ha dato perfetto sì 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 eh va fatto in stealth per forza meno che non è un arsenale ma dubito che lo avremo mai un arsenale non lo so questa non no questa non può essere aperta vale manca solo uno manca solo uno ah che era quello del camion sì 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 che io ho sbagliato ho sbagliato allora adesso gli diamo fuoco e corro come non ci fosse un domani via 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 qua 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 ok perfetto queste sono in case i willy ottimo hot springs fiducia è un'altra zona forse disinfestatore 8% devo liberare queste strade dai nidi di furiosi che le infestano prendere sicuri gli spostamenti ok la missione secondaria ok nuovo punto abilità ottimo vediamo abilità allora avevamo potenziato la sopravvivenza noi esatto per questo richiede un'abilità aggiuntiva però se non ho capito mai da quello che si vede qua cioè non è a livelli cioè a livello 1 2 3 basta solo accumulare tot punti abilità e posso prendermi anche diciamo questo qua che devono essere forse le più forti visto che le chiedono ben 7 abilità aggiuntive più quella che abbiamo quindi 8 vabbè allora non stiamo a pensare prendiamo prima le prime ovviamente dunque il compo concentrato non lo so forse potrebbe rivelarsi utile sicuramente ma non volevo metterla come abilità prioritaria magari questo qua che aumenta la precisione quando mi riconama a distanza si dai si prendiamo questa ok toccata e fuga preso ti hai premuto l2 premi r2 mentre mi muovi con l stabilizza l'etico della precisione riducendo la deriva mentre 3 miri con r2 ok vediamo un attimo no il mirino è sempre uguale però forse più stabile va bene adesso devo sempre portare ovviamente le vende al nostro amico ma attive ok guardiamo qua abbiamo è vero c'era un aspetta questa qua è quella principale mio fratello ok abbiamo scoperto un accampamento così accampamento nascosto nelle grotte delle grotte libero accampamento nascosto dei paredoni facciamola dovrebbe essere qua vicino eh infatti però tornerai prima alla mia moto eh sì eh tornerei oddio aspetta aspetta ma possiamo evitare cioè possiamo ammazzarla così non hanno non hanno una grande vista forse puntano più sull'udito però quando ti ti vedono e ti caricano non ti mollano eh non ti mollano più allora andiamo verso la nostra moto dove l'ho lasciata qua guarda che qui c'è vediamo magari c'è qualcosa no questa non qui dietro no ah eh la prendiamo eh sì perché la nostra è un po' andata ok posso ricaverne qualcosa ok c'è niente quindi comunque con i progetti come per con la con la mazza da baseball penso che anche con il resto possiamo personalizzarlo no penso ok allora seguiamo la strada più o meno se siamo già a metà serbatoio eh danni al momento dell'atterraggio poi ridurre i danni della moto usando per mantenere le ruote allineate al terreno gli atterraggi troppo lunghi no gli atterraggi dopo lunghi salti che sono sempre danni alla moto ah eh non dircelo cioè dicelo quando ci facciamo male vabbè qua c'è pare ci sia un accampamento eh però aspetto ho visto un laser caracca eh fatti salve oh sono di passaggio burca ma questo no aspetto no non mi posso arrampicare qua porca non me l'aspettavo aiuto no mamma mia ok dove è la moto qua inizia vai vai eh no 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 ma è caduta di due oddio aspetta cosa abbiamo fucile ce ne abbiamo un po' di colpi porca ce l'avevo dietro eh ma siete no sono troppi sono troppi adesso muoio un'altra volta no meglio morire meglio morire mamma mia forse no bella moto la no perché ti fermi eh mizzega oh eh ma mizzega guarda quanti sono scusi lei non mi può dare una mano dopo l'ammazzo eh però adesso non spara nessuno cioè nonostante li vede altri due vado sulla macchina mamma mia maia eh basta basta vabbè fa niente ricominciamo a dove ricominciamo pazienza no quando ti vedono basta è finita a meno che non adesso siamo ancora troppo deboli per affrontarne così tanti dove sono ah oh madonna mi ha salvato qua giustamente quando vabbè vabbè ci rivediamo direttamente là dai ok ho ripreso la moto ho ripreso l'asse di legno e adesso che sono morto qua ci sono già meno zombie lì al coyote willy quindi eliminando i nidi comunque poi i zombie diciamo non ci sono più quella zona almeno adesso qua non lo so qua non lo so aspetta io scenderei ok inizia però cosa sta a fare quello lì se non spara quello che vede cioè ok comunque entriamo nell'accampamento ma sento eh ma ci sarà un ponte forse con qualcosa dove entrare eccolo lì ok sento dei versi 14 ce ne sono però il fatto che ti dice quanti ce ne sono è utile eh almeno sai quanti devi abbattere allora quante cure ho sempre 5 qua allora farei no aspettiamo a farle molotov silenziatore praticamente mi servirebbero i dardi porca vacca mi servirebbero i dardi allora aspetta un attimo no potrei far fuori questo qua e prendere alle spalle a meno che a meno che questo qua madonna sono passato vicino alla trappola aspetta adesso andiamo a vedere ce n'era qualcun altro qua ho sentito un macché ah quello là in fondo ci ha visto davvero aspetta vado a nascondermi aspetta qua ci sono due trappole per orsi però non so quello là si è messo a correre non lo vedo posso disattivarla si quando mi hanno una trappola per orsi ti premuto le due per posizionarla ah ma non ce la non la possiamo non possiamo portarcela via cioè possiamo spostarla ma così però eh si infatti infatti così la posizioniamo ma no aspetta lasciamola luoghiamo qui perfetto scatola di chiodi a trattore qua no non si può aprire non so uno là boh si è messo a correre ma poi alla fine pensavo venisse di qua prontami siamo pieni ah 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 non merda eh non l'ho vista aia non l'ho proprio vista porca vacca mi ha visto si aspetta aia ah schivato aspetta ok l'ho letto di sfuggita ma ah quindi possono replicare oh e che cavolo mamma mia aspetta mi curo ok quante ne ho ah io ne farei altre straccio disinfettante non abbiamo ok arma primaria questo qua è un fucile ok prendiamolo però dai va baccano pazienza però mi sa che gli zombie qualcuno l'hanno ammazzato è 6 di 14 hanno creato un po' di casin va bene ma guarda testa trappola eh non l'ho vista allora ricevamo la balestra eh che cosa so oddio ma non era un allarme questo o forse si aspetta aspetta qua 7 gli zombie stanno facendo il lavoro al posto nostro cioè faccio rumore io gli zombie si agitano quindi cosa è stato vabbè ah no però sono dalla parte sbagliata tutto questo sono dalla parte sbagliata piacere ah ma è qui ma è chiuso gli stuttibili sono tutti insieme da corde arancioni vanno in pezzi quando vengono investiti investiti vabbè comunque si può distruggere sta roba no volevo provare ehm proviamo a sparargli con la pistola silenziata tanto un colpo vediamo no forse con la moto c'era scritto investiti o da un'esplosione però peccato che peccato che noi di roba esplosiva parte la molotov proviamo a farne una vediamo un attimo vediamo un attimo dove dove no la molotov no ci vorrà la bomba probabilmente vabbè allora faccio un altro giro dai io devo entrare lì tanto questa è oddio ah ce n'erano due vai fa niente si si vieni vieni ma guarda te non direi ah perché i zombie stanno facendo è vero usiamo la pistola va ok ho mirato da tutt'altra parte però l'ho preso in testa no 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 ancora no eh ma l'ho spazzato sul fuoco vabbè cioè qualcuno sulla trappola no eh porca vacca ma non è possibile aspetta aspetta mamma mia la moto l'ho lasciata qua dai vai 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 non fuori da niente ok allora aspetta un attimo non so dove sono ma mi sono allontanato comunque ne mancano solo quattro eh torno indietro fuggire siamo fuggiti questi li ste li stendo ok ma scusa con la moto devo sfondare siamo su no a me sembra strano investire secondo me diceva con un'esplosione aiuto ecco la moto sto anche finendo il carburante tra l'altro questi erano da qua mizga eh ciao come li supero forse vanno lì a sinistra mi hanno ammazzati un po' mi hanno fatto a meno sto favore vai vai andate 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 non ho più il silenziatore spero di trovare un po' di benzina vai vai ok paletto è uguale all'asse guarda eccola qua la trappola bene non l'avevo mica vista quindi si c'era una trappola la mamma mia non pensavo no vabbè non volevo questo un po' qui non riprendo no troppe icone aspetta qua eh no sono passati in teoria in teoria sono passati vabbè ok dove sono rimasti eccoli la benzina bene bene i quattro sopravvissuti dove sono ma fine è pieno di ah madonna ok quella poi la prendiamo intanto liberiamo qua c'è un altro corpo qui c'è un'altra trappola ha fatto rumore ma loro pare non se ne siano accorti aspetta aspetta vai vai pensate ai furiosi basta che non vengono di qua è che poi mi sa che si sblocca il letto eccetera 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 quindi allora quello la non si è mosso di la qui ho quattro dardi aspetta ok ok uno due mancano due due mancano due uno è là quello è il cecchino a trattore abbiamo trovato che lui è lì tranquillo bello serafico mi frega una mazza di quello che accade dietro di lui ancora uno esatto che dove sarà cacciato ah lì talmente impegnato va bene ci abbiamo fatto mi è piaciuto grazie il passato eppure se non sbaglio questi sono ancora gli stati uniti d'america e in america il diritto di proprietà non deve essere violato tutti possiamo rivendicare un territorio custodirlo e difenderlo è vero queste terre appartenevano agli indiani non voglio fare revisionismo ma noi le abbiamo conquistate con la forza che ancora oggi è la nostra unica risorsa non possiamo cedere di fronte a un branco di violenti se i federali i ripugnanti o i banditi sperano di invadere il mio angolo di natura selvaggia beh allora non hanno le idee chiare perché solo il più forte sopravvive si impone e prende quello che gli spetta qui Mark Copland di Radio Free Oregon non credete alle menzogne andiamo compraleggio e l'ordine sono storie vecchie che cazzo parli dopo due anni allora dove avete nascosto il bunker so che ne avete uno il bunker è dall'altra parte ho visto l'insegna dall'altra parte sto passando eh visto che la moto l'avevo lasciata qua faccio prima benzinna ok perfetto va bene ok mi serve più e il bunker forse ho capito qual è però aspetta avevo visto un coperchio qua qua ok andiamo giù sì c'è un po' di pop up del texto ma vabbè scaricano un pelo dopo eh ce n'è di roba qui che non possiamo prendere ovviamente una mappa e l'hanno riempita di indicazioni accampamento nascosto delle grotte fatto ok cacciatore di accampamenti 14% ok ok progetto sbloccato mistura rinvigorente quella di cui parlava vediamo istruzioni per fabbricare sì scommetto che tornerà utile vediamo no segnava la mappa no sì ok mi segna sempre la storia accampamento nascosto nelle grotte aspetta nascosto torre radio forse sblocchi le iscrizioni storiche qua c'è un nido vabbè va bene io adesso farei volentieri un pisolino metto delle armi una parte che non ne abbiamo ok ok farei un pisolino così mi si ricarica penso la vita non saprei vediamo un attimo sì così salvo e poi vediamo un po' cosa facciamo però così andiamo a notte vabbè o forse non so se eh sì se sei durante la il giorno passi alla notte se è la notte passi al giorno ok teoria no la vita non si ricarica devo per forza usare le bende usiamo se abbiamo un kit medico ok va bene sì no 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 Grazie a tutti.